Tra le prime scuole a diventare stazione appaltante in base alle nuove normative e anche a completare i lavori del salernitano. Stiamo parlando dell'Istituto Genovesi da Vinci di Salerno che, in tempi record, ha realizzato una serie di lavori finanziati con fondi europei per contenere i consumi energetici, sia per il riscaldamento che il condizionamento degli ambienti, garantendo quindi un maggior comfort microclimatico agli studenti e ai docenti. Un messaggio importante è quello partito da via Sickelgaita sul fronte delle infrastrutture scolastiche, spesso fatiscenti. Due progetti di efficientamento energetico inizialmente separati e poi confluiti sotto una sola regia in seguito all'unificazione delle due scuole, il tecnico commerciale genovesi da un lato e il liceo da Vinci dall'altro. Il primo intervento relativo al genovesi è interessato i muri perimetrali e la facciata, con un isolamento termico esterno ed interno grazie ad un investimento di 400.000 euro. Altri 500.000 invece sono stati utilizzati per il progetto del Da Vinci, con la sostituzione dei vecchi infissi in ferro risalenti agli anni 50. È stata la prima volta che questo tipo di interventi, quindi lavori di natura edilizia, è stato affidato direttamente alla gestione delle scuole. Penso che è stata una grossa opportunità e noi l'abbiamo sfruttata. C'è da dire che i primi ritorni li avete avuti anche dai ragazzi, insomma, li avete messo alla prova, questi lavori con questa ondata di freddo. Sì, infatti fortunatamente abbiamo terminato questi lavori in tempo per le ondate di freddo, diciamo siamo stati anche penso tra le prime scuole a riuscire a terminare questi lavori e effettivamente abbiamo avuto dei grossi vantaggi in termini diciamo proprio di clima interno per i ragazzi che non hanno certamente sofferto il freddo grazie appunto a questi interventi svolti che hanno riguardato soprattutto appunto l'efficientamento energetico della struttura sia con il cosiddetto cappotto isolante sia con la sostituzione di infissi che erano molto vecchi e quindi inadeguati dal punto di vista dell'isolamento termico. Un intervento non facile inaugurato ufficialmente pochi giorni fa ma di fatto ultimato entro i termini previsti del 31 dicembre scorso per le facciate operai all'opera tra giugno 2015 e metà novembre, tempi simili anche per gli infissi in PVC con triplo vetro per garantire il massimo dell'efficientamento energetico sia d'estate che d'inverno. Gli interventi, soprattutto quello di isolamento termico, ha consistito nell'intervento sulle facciate esterne e sulle pareti interne quindi è stato molto invasivo. Altrettanto invasivo è stato anche l'intervento di sostituzione degli infissi. Abbiamo dovuto sradicare i vecchi infissi in metallo e li abbiamo dovuti sostituire con i nuovi infissi in PVC. Gli infissi risalivano agli anni 50? Sì, erano proprio quelli che risalivano all'epoca della costruzione dell'edificio. Devo dire che un applauso particolare alle mestranze sia che hanno lavorato ma soprattutto anche al personale della scuola che ha collaborato. Tenga conto che alle 13 terminavano le lezioni, entrava l'impresa e lavorava a comparti nelle singole aule e la sera quando andava via alle 9.30 ripristinava tutto lo stato dei luoghi come era in origine perché il giorno dopo i ragazzi dovevano fare le lezioni regolarmente. Fortunatamente questo ritmo di lavoro ci ha consentito di completarli nei tempi previsti. Per questo volevo fare un applauso al direttore del settore amministrativo, il dottore Temis che con tutto il suo staff ha risolto brillantemente tutte le problematiche che sono relative ad una stazione appartante.